www.tostelline.com ciao stelline come state? io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 bene benvenuti o ritrovati sul mio canale in un nuovo video che come avrete già detto dal titolo è quello dedicato ai preferiti del periodo prima di iniziare come sempre mando un mai capaggio alla mia amica alessia con cui collaboro a questo mese da anni cioè a questo ai preferiti del mese che poi per quanto mi riguarda sono diventati i preferiti del periodo davanti da anni questa collaborazione sono felicissima come la prima volta perchè è una tipologia di video che io per prima amo e ho sempre amato quindi le mando un mega bacio ecco mia amica sono tornata anche a fare questo video e voglio anche dirvi prima di iniziare perchè come avrete visto negli ultimi video dei preferiti sto dedicando alla sezione film e serie tv a un video a parte ci dedico un intero video perchè ne guardo molti e quindi per dirvi le mie impressioni per raccontarvi un po' di drama andrebbe più tutto il tempo a disposizione per registrare e non riuscirei a farvi vedere poi altri prodotti e quindi ho deciso di dedicarci un video a parte come sto facendo appunto da un po' quindi fatemi sapere se vi fa piacere che vi registro anche quel video però però posso dirvi che in questo periodo oltre a film e serie tv quel video se lo girerò sarà molto molto ricco e sto guardando x factor che mi piace tantissimo mi piace tantissimo e mi piacciono anche tanto i cantanti ogni anno sempre di più vanno persone davvero talentose comunque ci sono vari che secondo me sono molto particolari e promettenti sono tutti bravi quindi ecco in tipo sto guardando principalmente questo è solo che non lo vedo non lo vedo in prima serata perchè di solito io e il mio fidanzato ci vediamo dal venerdì poi tutto il weekend e quindi vogliamo vederlo insieme aspetto che viene qui da me il venerdì sera per guardarlo poi in differenza insieme ok ora possiamo passare possiamo passare alla ciccia ai prodotti e parto con il capo il capo preferito del periodo allora più che il capo che ho usato che vi farei rivedere sempre le stesse cose utilizzo tantissimo le le tutine di senza part che avete già visto in altri video quindi non voglio ripetermi quelli però sicuramente sono i capi che io utilizzo in assoluto però vi faccio vedere un ultimo acquisto e sto parlando di questo vestito magari ve lo farò vedere anche indossato vi metto una foto una clip che ho preso da IGNM eccolo qui è un vestito grigio a maglia eccolo è scollato e ha tutte queste costine cioè ricoperto di queste costine e anche dietro mi piace molto il taglio è abbastanza lungo devo dire mi arriva alle caviglie vedete è molto lungo e è è un mini spacco vedete sul retro vi faccio vedere anche il cartellino ah tra l'altro è per il 52% di poliester e di riciclato ed è io ho preso una XS il prezzo è 19,99 quindi vabbè 20 euro e lo trovate anche in un altro colore questo grigio come avete visto ma c'è anche tipo beige non so perché profuma comunque che vi volevo dire l'ho trovato perfetto per questa 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 estate che non finiva mai e tipo durante le serate di settembre ottobre che quasi stava ancora bene devo dire che è stato perfetto vi faccio vedere anche come l'ho abbinato l'ho abbinato a questa giacchettina corta di pelle che ho preso da Bershka l'anno scorso ecco 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 è bellissima ecco ecco anche ecco 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 solo che non è Genemma Pershka e ritornando al vestito ritornando al vestito io vi metterò il link giù in infobox perchè lo trovate ancora e tutto ciò che vi farò vedere che è acquistabile su Amazon o che ho preso da Amazon potete andare a curiosare nell'info box perchè vi lascerò tutti i link anche di questo vestito metto il link di Genemma mamma mia il vestito che profuma per detto è di maglia è abbastanza confortevole non è stretto, non stringe nonostante vedete è abbastanza è abbastanza avvitato e aderente però devo dire che è molto molto comodo vabbè poi magari ve lo faccio vedere indossato come vi dicevo poi poi passiamo all'accessorio allora accessorio sono stata recentemente da Geek quel negozio che è tipo un negozio cinese però è tedesco che vende un po' di tutto da le caramelle ai vestiti anche per bambini pigiami articoli per giardinaggio esterni interni regali insomma un po' di tutto cucina insomma un po' di tutto e mi piace molto ha dei prezzi super vantaggiosi e nulla e nulla ho preso varie cose che però non vi faccio vedere tutte ora perché altrimenti questo video sarà interminabile però voglio consigliarvi ho preso lì due bled l'ho preso così e rosa uno per me uno per il mio fidanzato questo è per lui che ancora devo aprire e l'altro rosa ce l'ho sul letto bene tutti che ve lo prendo ha 4,99 euro e vi posso assicurare che è stop cioè proprio morbido morbido il mio è già aperto l'ho usato da un po' questo ancora lo devo lo devo aprire e quando verrà il mio fidanzato lo useremo useremo anche questo e tipo più che non so magari a volte vediamo un film invece di metterci sotto le coperte se vediamo un film a letto magari pomeriggio oppure ancora sera non è ora di dormire ci mettiamo sotto al bled oppure lo utilizziamo per fumare c'è una sigaretta fuori se fa freddo ci portiamo al bled ecco quindi devo dire è molto il tessuto è molto buono ero un po' scettica ma secondo me conviene mi ripeto 4,99 e ci sono di vari colori quello rosa è molto molto carino è è un rosa tipo questo qui di esattamente lo stesso colore di questo astuccio è nulla quindi super consigliato non ricordo quale altro colore c'era più però c'erano anche altri un po' che volevo farvi dire più vabbè questo astuccio è troppo carino non ricordo la fidanzata di mio fratello dove l'ha acquistato è un regalino suo però non ricordo dove l'ha preso magari glielo chiederò e vi farò sapere e vi faccio vedere all'interno qui mi abbiamo messo delle penne colorate che vi voglio consigliare se siete degli amanti come me o tutto ciò che riguarda la cartoleria e sono un'amante e il mio fidanzato mi ha regalato tutte queste penne colorate a gel della pink che sono bellissime scrivono benissimo sono di vari colori e anche ho queste penne il link ve lo metto giù nell'info box sono buonissime queste le ho prese su amazon e ho preso anche questa penna che mi ha fatto impazzire vedete quanta è bella è della legami che ovviamente non mette a fuoco vabbè vi fidate di me ed è anche cancellabile c'è il tratto quando poi scrivete può essere cancellato da questo gommino mi sono appena accorta che ho parlato con un po' di rossettosi i denti vabbè non fa nulla non rifaccio tutto da capo tanto siamo tra di noi non fa niente ok e e nulla troppo troppo carina cioè dai e mi piace anche tanto come scrive troppo troppo carina metto il link anche di questa e poi poi possiamo vabbè guardo davanti a me perché qui come sapete ho scritto ho scritto tutto per non dimenticarmi nulla e quindi passiamo al prodotto anzi ai prodotti preferiti troppo bello comunque questo e si ho in realtà una parte di me avrà per sempre sette anni ce lo faccio adoro che volevo farvi vedere sì allora voglio straconsigliarvi perché è un amante degli integratori che ha bisogno di prendere integratori io ne utilizzo vari e perché sono convinta che comunque solo con la nostra alimentazione non ricopriamo il fabbisogno giornaliero di tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno quindi quando secondo me è il caso di integrare con qualcosina io prendo la vitamina D la lattoferrina con lo zinco e poi prendo la vitamina C vi spiego perché la vitamina C è contenuta in molti alimenti tra cui frutta verdura ma c'è un problema spesso mi provoca sono un po' incline alla gastrite io appena ci sono determinate cose che so per certo che se faccio un abuso o le mangio quando già sto un po' tipo nel periodo della fase mestruale come che sono un po' più deboluccia di stomaco ecco se io abuso o faccio uso in particolari momenti del mese di alcune cose so che mi viene un po' di acidità quindi e quindi siccome la vitamina C è importantissima e vorrei assumerla ogni giorno ho fatto una ricerca lunga un anno se non di più per trovare l'integratore perfetto per me perché ovviamente se io evito di mangiare determinate cose proprio per non avere il fastidio dell'acidità e poi vado a prendere un integratore che comunque contiene non so è tipo l'estratto di vitamina C preso dal limone dall'arancia dal pompelmo peggio ancora e insomma non va bene per me perché comunque mi porterebbero acidità soprattutto prese ogni giorno e quindi ho trovato queste qui che sono 240 capsule e voi direte bene questa vitamina C da dove proviene mi sono messa a cercare un po' e ho visto che la vitamina C è contenuta anche nella rosa canina e nell'acerola nell'acerola e nella rosa canina e quindi ho detto vediamo un po' se esistono dei integratori alla rosa canina e a cerola che contengono appunto vitamina C e li ho trovati questo è un marchio tedesco molto molto buono affidabile le ho prese su Amazon se ne prendono due al giorno vi ripeto sono 240 vi faccio vedere anche la grandezza ecco vedete sono delle capsule che vanno ingerite dopo mangiato con abbondante acqua le sto testando da un mesetto vi devo dire che io problemi di acidità non ne ho avuti quindi per chi come me o insomma vuole assumere vitamina C però non vuole prendere niente di strong perché anche chi ha lo stomaco forte a lungo andare questi integratori portano acidità quindi per scongiurare ciò io ve la stracosiglio questa confezione qui vi metto il link anche di questo come vi ho detto c'è una info box poi poi mamma mia quanto parlo però voglio spiegarvi bene le cose non dirvi vi consiglio questo basta ecco voglio spiegarvi poi un altro prodotto che io sto usando e che mi sta piacendo molto è questo dentifricio qui AZ che pensavo costasse molto di più soprattutto perché lo trovo molto valido è quello che promette mantiene devo dire allora 3D white clinicamente approvato ultra white rimuove fino all'80% delle macchie spiancata dal primo spazzolamento e devo dire che oltre al potere sbiancante che secondo me è abbastanza evidente questo qui devo dire che questo qui vi lascia una una freschezza in bocca diversa dalle altre sembramenta piperita non lo so e vi rimane per tanto tempo per ore almeno a me e rimane questa sensazione di freschezza per tantissimo tempo e devo dire mi sta piacendo proprio tanto quindi è straconsigliato anche questo vabbè bianco così niente di che e mamma mia che profumo mamma mia ho tante cose da far vedere ancora ah e poi una cosa che ho adorato sono le spugnette cognac queste qui me le avete regalate me le ha regalato uno di voi l'anno scorso tipo ed erano offre all'interno la verde distrutta lo strausata questa anche non non la posso più riutilizzare perché si è aperta perché dopo un po' siccome sono naturali sono destinate ovviamente a non essere più riutilizzabili e quindi questa qui pure mi sono trovata benissimo al carbone e ora sto utilizzando questa qui bianca sono straordinarie cioè come mi come puliscono il viso queste niente neanche apparecchi super tecnologici che ho testato tipo il come si chiama quello lì della foreo il il luna io ho sia l'ufo che il luna l'ufo per le maschere è ottimo anche il il luna è molto buono per pulire però mi fa uscire i brufoletti o perché va pulito benissimo pensate che io ci spruzzo lo spirito prima di utilizzarlo però comunque mi fa trovare qualche impurità che io di solito non ho problemi di brufoletti eccetera e con quelli invece noto che mi irritano troppo queste sono perfette anche queste le trovate su amazon e vi lascio il link passiamo passiamo ai prodotti doccia allora prodotti doccia io ho usato tutta l'estate sto continuando ad utilizzare questo qui della vital è stupendo mi piace troppo rinfresca e idrata bagno doccia acqua di cocco e mono cioè questo per l'estate è il top oranio ancora qualche flacone e quindi vabbè lo finirò per poi passare a qualcosa di più autunnale invernale però mi piace proprio tanto tantissimo e costa 1,20 euro ed è 500 ml adoro e poi questo già ve lo faccio vedere se non erro i provenzali questo lo utilizziamo se io che mio fratello è il bagno d'oggio schiuma biologico all'aloe e di tri oil con antibatterico naturale questo costa un po' rispetto a bagno schiuma che trovate solitamente però è super buono è validissimo questo perché ha la pelle delicata è fantastico che tende a avere reazioni allergiche eccetera questo è fantastico ok ora passiamo alla sezione unghie allora come vi ho detto nel video precedente le mie mani sono state disastrate per mesi poi prima di tornare ho deciso di rifare le unghie e ricostruirle siccome non avevo tutta quella voglia di fare la ricostruzione con gel le stare ore perché ci metto ore devo dire vengono abbastanza bene però ci metto un bel po' e per accorgere i tempi mi sono accorta che esiste un altro metodo abbastanza nuovo per farle e l'indosso adesso sono delle le gel tip e l'ho prese in due forme e sono della passione unghie vi ho letto il prezzo qui da qualche parte perché non mi ricordo gel tip ha queste forme mandorla baby boomer e sono quelle che ho utilizzato solo che poi le ho fatte con quelle quadrate e le ho colorate e hanno queste cuffie non stanno ferme e sono devo dire molto più veloci che fare la ricostruzione passaggio per passaggio e sono resistenti ce lo do un bel po' e resistono è facile è veramente facilissimo a parte la fase in cui dovete mantenere la gel tip per poi andare in lampada c'è tutto un procedimento magari poi vi faccio un video più specifico comunque adoro e dentro vedete ce ne sono di varie misure ecco qui e praticamente queste gel tip hanno già la struttura devono solo essere incollate alla vostra unghia ovviamente che potete preparare prima di incollarle a queste gel tip e quindi queste e poi e poi ho preso anche queste qui a forma ballerina e sono trasparenti il topping è stupendo qua solo e poi per il colore il nero ho preso un altro nero perché avevo già uno ma avevo uno ancora più intenso che già con una passata aveva questo effetto e devo dire che è molto più valido dell'altro che avevo sempre della stessa marca e anche di questo il nome ve lo scrivo da qualche parte poi poi passiamo al cibo allora la prima cosa che vi mostro sono queste cucciole edizione limitata al caramello queste le ho prese per il mio fidanzato per fargli fare colazione ed è impazzito perché lui è un amante del caramello e devo dire che si sente si sente il gusto di solito quando qualche biscotto insomma gli mettono un aroma particolare di qualche frutto così non si sente molto invece devo dire che qui il caramello si sente ed è prevalente come gusto e quindi per gli amanti ve le consiglio anche se sono edizioni limitate non so per quanto tempo ancora potreste trovarle comunque molto buone ma per quanto riguarda sempre la sezione integratori diciamo ho acquistato sempre su amazon i semi di lino e devo dire che li ho trovati ad un prezzo davvero ottimo con la loro qualità visto che sono bio e li sto assumendo da una settimana tipo sono questi qui ecco qua semi di lino bio questi fanno benissimo al cuore perché sono ricchi di omega 3 e abbassano anche trigliceridi e colesterolo cattivo nel sangue e sono come vi dicevo biologici e li sto utilizzando li metto nelle salate o sul salmone spriciolate così insieme alla granita di pistacchio oppure tipo nel porrige insomma se faccio qualche peludata potete metterli dove preferite e per avere la resa massima palla pestati magari vi fate aiutare da un mortaio io ho questo qui di marmo molto pesante questo qui però vabbè li trovate comunque anche di ligno tranquillamente va bene cioè come vi trovate meglio magari anche col batte carne se l'avete in casa vedete si mettono all'interno e si pestano e sentite un bel profumo certo il sapore non è ottimo per quanto mi riguarda è abbastanza deciso però siccome non vanno mangiati in quantità industriale non ve ne accorgerete proprio del loro sapore perché vanno benissimo uno due cucchiaini al giorno e anche di questo vi metto il link in infobox vediamo quanti grammi sono ecco 500 grammi tutta la bustina e questi pibri dureranno un bel po' mi sa che sono tantissimi allora un'altra un altro prodotto che voglio farvi vedere per quanto riguarda sempre la sezione cibo mi ero regata al supermercato e approfittando di varie compere che dovevo fare varie acquisti mi sono imbattuta nelle nuove jipster a lenticchie volevo acquistarle però sinceramente ho visto dietro i valori nutrizionali e sono molto più grasse e meno salutare di un pacco di patatine quindi sinceramente ho evitato e ho trovato tutto business e ho trovato queste qui le vecchie good della san carlo questi quadrotti alle carote sono molto molto buoni infatti li ho ricomprati sono degli snack molto spaziosi per non mangiare sempre le solite patatine e questi non sono fritti sono senza glutine e solo proteine vegetali carina anche la confezione poi poi passiamo al make up allora vi faccio vedere tre nuovi prodotti che ho acquistato quest'estate quindi sono molto testati vedete vedete sui miei occhi oltre all'ombretto il mascara e l'eyeliner sono dei due nuovi prodotti di cui vi stavo dicendo partiamo dall'eyeliner che è questo qui della Deborah Milano il 24 ore extra slime felt tip eyeliner pen questo qui che mi piace tantissimo il suo tratto è un nero molto intenso è molto preciso anche perché insomma non è molto a pezzo con l'eyeliner io ho trovato un nuovo metodo però faccio prima metto prima il mascara e poi passo l'eyeliner vi assicuro che è molto più semplice seguire la linea dell'occhio dopo aver applicato il mascara aspettate che si asciuga un po' e poi mettete l'eyeliner fatemi sapere io mi trovo molto meglio comunque il tratto è molto deciso molto scuro intenso questo è lo scopolino in feltro che non è né troppo questo è lo scopolino in feltro che non è né troppo rigido né troppo muscio e devo dire che mi piace il mascara invece è il famosissimo pupa pampo che ahimè non avevo mai provato e mi è piaciuto tantissimo pensate che ho solo una passata e questo è l'effetto sulle mie ciglia per non parlare di questo suono che mi piace tantissimo che però non bisogna fare perché ingloba tutta l'aria questo movimento e fa malissimo il mascara però per l'SMR questo ed altro comunque anche di questi prodotti che vi sto facendo vedere è tutto in infobox e anche il correttore è una new entry è il famosissimo cancelleta della Maybelline New York è un correttore molti uso e può dirlo forte perché questo per chi non utilizza il fondotinta è il top io se voglio correggere qualche altra parte uniformare più che altro lo applico tipo in questa zona magari un po' sulla fronte un po' qui avete fatto cioè adoro e questo colore credo sia perfetto per me è il numero 07 non ho abbandonato il correttore della vita quello essence col cappuccio perché ce ne sono pari della essence io utilizzo quello col cappuccio verde acqua e ve ne ho parlato ovviamente già in altri video quello lì però è più chiaro ed è proprio correttore pasta e lo sto utilizzando per questa zona qui quindi per dare un effetto di sguardo allungato e illuminante perché appunto è più chiaro più luminoso e questo mi è piaciuto così tanto che appunto è già finito e perché non mettendo il fondotinta con questo mi ci trovo da dio e poi appunto ne ho comprato già un altro il numero 07 è quello che utilizzo io ottimo ci sono tantissime tonalità comunque poi 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 si apre ufficialmente il periodo di tè di sane e chi più ne ha più ne metta quindi quindi troverete anche questa sezione nei preferiti del periodo e io sto bevendo il tè che devo dire so benissimo che può non piacere a tutti perché ha un sapore comunque particolare però vi assicuro che io che lo detestavo e lo bevevo solo perché fa bene per quanto mi riguarda tutto rigorosamente sempre senza caffeina e senza teina quindi detenato anche perché lo prendo come coccola prima di andare a dormire e non metto neanche più lo zucchero perché una cosa che ho notato è del tè verde che mano a mano ci si abito quindi non mi dà più quel fastidio come le prime volte che lo bevevo che dicevo mamma mia cioè della serie così proprio cioè non mi piaceva e invece ora è piacevole non mi dà più fastidio credo sia una questione di abitudine e io utilizzo questo anche questo qui preso da amazon è lo start che credo sia il migliore almeno da le mie ricerche questo è il migliore che si trova insomma più facilmente in commercio l'acquisto su amazon ma secondo me lo potete trovare in qualche supermercato non in tutti perché in qualcuno non l'ho mai trovato e quindi per fare prima senza girare a caso io lo prendo su amazon faccio vedere beh niente di che la sua bustina e e nulla io ho riregistrato ora ve lo posso dire ho riregistrato questa parte perché si era scaricata la batteria del cioè no il mio zoom aveva la memoria piena quindi ho parlato appunto tipo dieci minuti quindi ho fatto un casino e sono ritornata dopo un'oretta a registrare a riregistrare questa parte ricollegandoci al video precedente dove vi dicevo che a volte è uno stress vabbè comunque mi fa piacere se poi questo video vi è piaciuto si vi ho tenuto compagnie insomma fatemi sapere quale prodotto vi incuriosisce o se avete provato già qualcosa a me piace troppo questo suono e nulla stelline ci vediamo spero molto presto vi do la buonanotte lasciandovi un bacio grande 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 grazie per aver guardato questo video e vi mando una dolcissima 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 buonanotte buonanotte stelline fate bei sogni buonanotte buonanotte